Uno dei progetti più importanti di cui questa amministrazione è orgogliosa è il progetto Tirocini. Rappresenta una vera opportunità di collegamento tra il mondo del lavoro e i giovani inoccupati. Che cosa succede? Succede che diamo la possibilità attraverso i tirocini formativi per i giovani neolaureati della provincia di Ravenna di essere ospitati nelle aziende attraverso questo bando, attraverso queste borse finanziate dalla Fondazione Eni Enrico Mattei. È un progetto molto importante che è giunto alla settima edizione e che ha visto il 60% dei giovani trovare lavoro grazie a questa esperienza. Il bando che si trova nel sito del Comune di Ravenna prevede che entro il 28 settembre le aziende si candidano con i loro profili professionali, successivamente il 23 di ottobre vi sarà la giornata in cui le aziende indicheranno pubblicamente i loro profili professionali che cercano e successivamente a quella data i giovani potranno inviare inoccupati i loro curriculum alle aziende.